Fino all'ultimo sostenevano quasi che mi fossi inflitto io i colpi, ma anche stamattina l'intervento dell'Avvocato Manzitti ha chiarito ulteriormente quello che è successo quel giorno, nonostante abbiano continuato stamattina a sostenere la tesi che io comunque non posso sbagliare, è un momento sbagliato. L'importante era ottenere due cose, uno l'affermazione di responsabilità degli imputati, quella c'è stata, secondo la condanna al risarcimento dei danni, quella c'è stata. Siamo partiti un anno a 4 mesi, siamo arrivati a 40 giorni ma l'importante è che si è arrivata una condanna e quindi accertare comunque una responsabilità domani. Va bene!